Il Presidente Serracchiani oggi a Clausetto ha visitato la Casa di Riposo Fondazione Giacomo Fabricio e il Memoriale della Battaglia di Pradis. Per quanto concerne la Casa di Riposo, una realtà moderna a servizio dei cittadini. Recentemente ristrutturata anche con fondi regionali e che risponde a quelle che sono le esigenze di non istituzionalizzare gli anziani, soprattutto se non autosufficienti, ma poterli accogliere in delle strutture piccole come il caso della Casa di Riposo di Clausetto, che però hanno non solo tutti i comfort ma anche moderne e possono rispondere anche con la bellezza dei luoghi sicuramente ad esigenze che queste persone hanno e continueranno ad avere. Per quanto concerne il Memoriale della Battaglia di Pradis, quanto conta ricordare la memoria? Bello che oggi questo Memoriale sia stato inaugurato dai bambini e con la lettura dei caduti che proprio qui in questi luoghi hanno perso la vita. Ed è altrettanto importante che questa memoria oggi venga attualizzata affinché i valori che allora spinsero queste persone a combattere, a difendere la loro famiglia, la loro patria, oggi siano valori che in qualche modo ritroviamo e possiamo dare alle nostre generazioni, nuove generazioni che si trovano ad affrontare un tema tutto europeo di rischio di frammentazione in piccoli, piccolissimi pezzetti della nostra Europa che invece deve rimanere unita.